Prende la parola il Presidente di Asso Lombarda, Carlo Bonomi. Cari colleghe, autorità, rappresentanti del sindacato, dell'università, della scuola e della società civile, a tutti voi il mio ringraziamento per essere qui. È trascorso un anno e mezzo da quando in questo stesso meraviglioso teatro ci dicemmo che era finalmente il tempo di sentirsi protagonisti del futuro. La ripresa italiana assumeva, trimestre dopo trimestre, forza e sostanza. Più occupati, più export, più investimenti. Milano macinava successi. Brexit appariva come un rischio da imbrigliare e Macron come una risposta di portata continentale al rischio di marci indietro verso gli egoismi e le chiusure nazionali. Ma da allora molte cose sono cambiate. Da alcuni trimestri a questa parte il vigore della ripresa internazionale ha perso smalto. Il commercio mondiale frena sotto i colpi di successivi interventi bilaterali sempre più consistenti che alzano i livelli dei dazi ormai su alcune centinaia di miliardi di dollari di interscambio tra USA e Cina, a cui si aggiungono anche maggiori dazi USA che colpiscono l'Unione Europea. Il rientro delle politiche monetarie, delle maggiori banche centrali, verso strumenti ordinari e il rialzo dei tassi di interesse da parte della Fed è tornato a convogliare verso il dollaro ingenti flussi finanziari. Essi risospingono verso la crisi i paesi afflitti da gravi instabilità sistemiche e il valore delle valute nazionali va a picco insieme alle bilancie dei pagamenti. Dalla Turchia all'Argentina al Venezuela tornano al pettine i nodi strutturali di tanti paesi i cui regimi politici hanno illuso per anni i loro cittadini di aver conseguito stabilità e interesse. La Brexit è diventata sempre più una dammatica corsa contro il tempo. Il governo di Londra non riesce ad assumere in alcun modo un approccio chiaro al tavolo negoziale, stretta tra il vincolo di smentire una decisione che non sa come attuare e le divisioni interne sul sé e come scegliere la persistenza nel mercato unico dei beni, ma non dei servizi, pur senza farne parte della governance. Londra rischia di avviarsi nella prossima primavera a un hard Brexit, che farà tanto male all'economia britannica quanto a quella europea, seppure in misura minore. Macron ha sin qui deluso l'aspettativa di poter rappresentare un solido punto di riferimento. L'Europa si avvia alle elezioni della prossima primavera, più debole e divisa di quanto le dure elezioni apprese nel 2011 spingessero a sperare e immaginare. Sul tavolo del commercio mondiale, USA, Cina e Russia sono tra loro divise, ma tutte, per ragioni diverse, mirano a indebolirci. E' finito il tentativo di governo multilaterale della globalizzazione, nato alla caduta del muro. Il G20 è poco più di una sede rittuale di confronto a due tra grandi potenze. Dal prezzo delle commodities energetiche al Medio Oriente, allo sconto tra sciiti e sunniti, l'Europa e i singoli paesi europei hanno visto il proprio ruolo e i propri interessi indebolirsi. E su tutto questo, nella generalità dei paesi occidentali e innanzitutto in Italia, ha assunto una forza sempre più rapida un massiccio fenomeno di riorientamento del consenso popolare, verso forze che auspicano il ritorno a sovranità nazionali contrapposte, verso un'idea di Stato non solo dispensatore di sussidi, ma di nuovo protagonista nell'affermazione sulla scena internazionale di vincoli e dazi discrezionali, come in ambito nazionale nella conduzione diretta di imprese e nell'offerta di beni e servizi, verso un'idea di comunità nazionale chiusa nelle proprie frontiere, diffidente se non esplicitamente avversa a ogni idea ordinata di gestione e integrazione dei flussi migratori. Si tratta di fenomeni di un tale impatto che come imprese non possiamo e non dobbiamo ignorare. Come comunità di imprese che si riconosce in assolombarda, noi avvertiamo il nostro dovere come rivolto all'intera società e non solo verso i nostri collaboratori, soci, clienti, fornitori. Come parte dirigente del ceto dirigente di questo Paese non possiamo e non vogliamo volgerci dall'altra parte e discutere delle nostre esigenze e attese in vista della prossima legge di bilancio. Per questo ho deciso di rivolgermi in questa Assemblea non solo al mondo dei nostri associati, né alla sola Confindustria nella sua interezza, di cui siamo orgogliosamente parte, ma idealmente a tutte le forze protagoniste della vita pubblica italiana. Sono gli effetti di una bassa crescita economica e di politiche sbagliate di finanza pubblica pluridecennali ad essere sfociati nel post-2011 in una perdita di reddito medio più profondo e doloroso di quello della crisi del 1929. Si tratta di errori che hanno responsabilità storiche ben precise, ma se il 60% degli italiani mostra oggi nei sondaggi di riconoscersi in una reazione che ascrive tale effetto drammatico alla responsabilità generale delle cosiddette élite a spese di milioni di concittadini, noi non possiamo tirarci indietro. A maggior ragione, quando un fenomeno simile investe ormai un numero crescente di paesi europei, con il rischio che l'Europa si sgretoli, priva di leadership come appare, e dall'esito totalmente inconcludente della riforma della sua governance, che era annunciata per quest'anno e che è finita totalmente nel dimenticatorio. Di fronte a questo quadro avvertiamo un dovere. Dobbiamo tutti contribuire a una nuova strategia di responsabilità nazionale, con gli occhi rivolti all'Europa. Noi tutti dobbiamo sentirsi responsabili di ciò che saremo. Non è il momento di abbandonare processi potenzialmente disgregativi, così profondi nelle mani di qualcuno che non pensa all'interesse di tutta la comunità. Grazie. Grazie. Applausi. È avvenuta nel volgere di pochi mesi una trasformazione profonda del senso di sé e della volontà reattiva degli italiani. Assume forme di ripulsa verso la stessa idea di democrazia rappresentativa, verso i fondamenti garantisti della giustizia e della presunzione di innocenza. Inoltre esprime sfiducia crescente verso la scienza. Si pensi al fenomeno del Novax che ci vede segnalati ormai dalle autorità sanitarie internazionali come un paese prima della cui visita sottoporsi a profilassi e le nuove tecnologie imputate su di sostituire il lavoro umano accrescendo la fila di disoccupati. In particolare, questi due ultimi fenomeni minano anche la fiducia verso la libera impresa. Considerata come un processo di fattori organizzativi, gestionali e finanziari non più rivolti a rafforzare l'occupazione e la coesione sociale. Bensì potenzialmente tali da crescere i divari di reddito e il disagio sociale. È inutile fingere di non vedere la portata convergente di questi fenomeni. Voglio essere chiaro ed evitare ogni equivoco. Il clima sociale e culturale che ha portato al voto dello scorso 4 marzo non chiede alle imprese di mettere in campo forze di opposizione ai partiti e al governo. Noi non tifiamo per questo o per quello. Noi tifiamo per l'Italia, da sempre. Né per questo o contro di quello. Noi siamo collaborativi nell'interesse del Paese. Noi rispettiamo la politica, i partiti, perché noi rispettiamo le istituzioni repubblicane e la nostra Costituzione. Noi siamo un pezzo essenziale della società italiana. Noi reggiamo l'Italia sui mercati internazionali con il reto storico dell'export conseguito nel 2017. Noi diamo lavoro a milioni di italiani. Noi sosteniamo in misura importante con le nostre tasse gli 840 miliardi di spesa pubblica. Dalla crisi non ne siamo usciti per diritto divino. Ne siamo usciti grazie soprattutto all'impegno e al sacrificio di migliaia di imprenditori italiani e di tutti i nostri collaboratori. Ma come imprenditori abbiamo pagato un caro prezzo con 700 vite umane spezzate e migliaia di aziende che hanno chiuso i battenti. E sulle 700 vite spezzate lasciatemi dire anche questo. Io penso che potevamo e dovevamo fare di più. Non importa quale associazione fossero iscritti se fossero manifatturieri, artigiani, commercianti. Per me non fa differenza alcuna. È il forte senso di solitudine di fronte al ritardo dei pagamenti, alle pretese del fisco, alla vischiosità delle procedure amministrative ad aver spinto tanti imprenditori a farla finita. E noi dobbiamo essere in campo ogni giorno perché questa solitudine trovi comprensione e sostegno. Restare solo è un duro prezzo che paghiamo all'ostilità persistente contro l'impresa di questo Paese. Ma noi come sistema dobbiamo vincere la solitudine innanzitutto mostrando di essere tutti pronti a farcene carico. Umanamente, prima ancora che con iniziative economiche. Perché ognuno di noi che abbandona impoverisce tutti noi e impoverisce il Paese. Diciamolo una volta per tutte. Per anni in Italia troppi hanno pensato che per essere imprenditori bastasse aprire una partita eva. Con tutto il rispetto, non è così. No. Essere imprenditori e avere il senso del rischio. Guardare a nuovi mercati. ricercare e attuare maniacalmente l'innovazione per seguire la crescita con tutti i nostri collaboratori. E a proposito di lavoro, noi non siamo quelli dei campi che sfruttano col caporalato italiani e stranieri. Siamo stufi di essere confusi con chi lucra sulla fame. Le leggi ci sono. Lo Stato intervenga e li metta in galera. Ma una volta per tutte basta dire che quelli sono imprenditori. Noi con i delinquenti non abbiamo nulla a che fare. Ed è con questo orgoglio che lancio un forte appello a tutti i corpi intermedi della società italiana, a tutte le altre associazioni di impresa, al mondo della finanza e alla comunità scientifica, ai sindacati, al mondo del lavoro, all'associazionismo, al terzo settore, alle università, al mondo della cultura. Siamo noi che dobbiamo dare, tutti insieme, una risposta nuova alla crisi di fiducia complessiva che atanaglia gli italiani. Siamo noi che dobbiamo proporre una nuova visione di Italia coesa, che dia risposte a chi ha meno, che ripristini gli ascensori sociali oggi bloccati, che valorizzi le competenze, che premi il merito, che torni a comprendere che come Paese trasformatore non possiamo isolarci del mondo, ma al contrario dobbiamo scommettere su una sua maggiore apertura. Se viviamo di esport, che ha permesso la pura sfidica ripresa di questi anni, chiudere vorrebbe dirci fare del male da soli. È una sfida culturale di vasto respiro, impegnativa, come quasi quella che vide l'Italia ricredere in se stessa dopo il 1945. Ed è in questo spirito che avanzerò alcune proposte che rappresentano il condensato, di ciò che come a Solombarda vogliamo proporre al dibattito pubblico nazionale, come contributi essenziali a una piattaforma comune di ridefinizione a 360 gradi della responsabilità nazionale. Ma prima di adentrarmi negli esempi, lasciatemi aggiungere una cosa. Prima di tutto si tratta di recuperare un linguaggio più adeguato, perché è il linguaggio compulsivo della comunicazione pubblica, il primo alimento che alimenta le paure per sfruttarle a fine di consenso. A fare la cultura di un paese e l'immagine che essa di sé sono innanzitutto l'educazione, il linguaggio e i comportamenti. Se si attaccano le autorità indipendenti che presidono i mercati e se ne travolgono i vertici, si torna indietro di 40 anni e ci si esclude dalla comunità dei mercati. Se si tacitano i magistrati, perché non eletti, si abbatte la fiducia dell'eguaglianza di fronte alla legge e la si sostituisce con la giustizia dei partiti. Ancora, critichiamo neppure i provvedimenti. Certo, sbagliano anche loro, ma non dimentichiamoci mai che loro, come i componenti delle forze dell'ordine, sono stati e vengono assassinati perché servono lo Stato, la Costituzione, le regole della nostra società civile, cioè tutti noi. la politica e il suo mandato popolare, ma le istituzioni di un paese libero dei tempi di Montesquieu vivono nell'equilibrio tra diversi poteri, guai a rinunciarvi, e questa generale mancanza di responsabilità a travolgere la fiducia verso le istituzioni. Sono queste le sacche di inciviltà che finiscono per espandersi come un cancro che sfibra la coesione, perché le istituzioni sono il nerbo della Repubblica, come ha detto il Capo dello Stato, e noi vogliamo difenderle innanzitutto da chi usa toni inadeguati. De Gasperi aveva di fronte a sé un paese in cui era diffusa la disperazione, il capitale fisico e finanziario era abbattuto, il lavoro mancava, la misera allignava e l'Italia era immagine di ogni considerazione internazionale. Eppure a De Gasperi non passò mai per la testa l'idea di alimentare nuovi rancori e paure. Così l'Italia si rimise in piedi e tornò all'onor del mondo perché riscoprì la fiducia in sé stessa, evitando persino nella più dura contrapposizione del 1948 di ripercorrere le vie dell'odio anche in un momento di scontri fortissimi politici. la rivoluzione del linguaggio responsabile è la prima che dobbiamo fare perché dobbiamo dirlo con forza se siamo arrivati al 4 marzo e se da allora non cessano toni e argomenti che dividono frontalmente la società italiana il primo dovere dei ceti dirigenti è quello di ripristinare il linguaggio della civilità ed è per questo desidero sottolinearlo con forza che ci riconosciamo con totale convinzione nell'infaticabile opera quotidiana che sta svolgendo in questi difficili mesi il capo dello Stato Sergio Mattarella lo ringrazio credo che questo applauso gli esprima tutto il sostegno che egli merita nella ripresa italiana Milano intesa come il territorio che noi rappresentiamo ovvero Milano Monza, Brianza e Lodi è stata la prima e diciamo non ci piace essere primi a Milano ma come primi in Italia il nostro senso di responsabilità è considerare il successo di Milano a disposizione del paese il significato delle medaglie d'oro che Milano consegue in molti settori per noi ha un significato imprescindibile è il valore di ciò che dobbiamo restituire al paese la nostra leva fondamentale è l'attrattività del capitale umano finanziario delle imprese e del turismo per questo Milano concentra il 32% delle multinazionali che operano in Italia e capitalizza l'intervento di oltre 34 grandi fondi e gruppi di investimenti immobiliari esteri intorno a 43 maggiori progetti di ristrutturazione urbana che fervono in città Milano ha superato in questo 2018 200.000 imprese attive con i giovani in controtendenza nazionale che scelgono sempre più Milano per studiare e lavorare e la porteranno a 1,4 milioni di residenti Milano capitale digitale con un grande patto tra imprese e università Milano polmone dell'innovazione e della crescita dell'integrazione e della coesione sociale perché sono le grandi città metropolitane in estate in economie regionali ad alto valore aggiunto il vero motore della crescita globale non i sistemi paesi nazionali come invece molti ancora credono con la testa rivolta al passato ed è in questo spirito che Assolombarda amplia sempre più la propria cooperazione con lo straordinario impegno che il terzo settore e il privato sociale profondono nei nostri territori a sostegno di poveri e svantaggiati dell'housing sociale e di molteplici progetti di integrazione culturale con un caloroso ringraziamento di tutti noi a tutto ciò che la Chiesa ambrosiana ogni giorno mette in campo con la sua rete di solidarietà umana a cominciare dall'opera insostituibile svolta dalla Caritas noi per primi siamo chiamati iniziative nuove voglio solo richiamarne una a titolo di esempio i 100.000 euro che abbiamo raccolto ed evoluto insieme alle organizzazioni sindacali che ringrazio a sostegno delle donne vittime di violenze molestie la violenza sulle donne è una vergogna civile che deve finire così come dobbiamo dirci colleghe e colleghi che deve finire la distinzione di genere sul lavoro a partire dai salari è questo lo spirito con cui incorriamo a una base comune le proposte delle nostre intese all'intera comunità delle istituzioni politiche e amministrative di Milano città metropolitana e della Lombardia vuol dire rendere più incisive e forte la nostra voce comune sulla scena delle scelte nazionali europee e internazionali che ci vedono attori e protagonisti e in questo quadro ribadiamo il nostro sostegno alla candidatura per le Olimpiadi Invernali 2026 ma a questo proposito voglio aggiungere anche una cosa e lo citava anche il sindaco basta polemiche controverse per favore le Olimpiadi sono di una nazione non di una città o una regione se continuiamo a trasformare ogni candidatura internazionale in un rodeo domestico non è Milano che perde credibilità è l'Italia intera agli occhi del mondo tutti questi successi chiedono però che Milano e la Lombardia possano contare su un'attenzione prioritaria alle loro esigenze non appartiene alla nostra tradizione ad assumere atteggiamenti vittimistici e rivendicativi al contrario è la forza dei nostri numeri a consegnarci un ruolo nazionale che declini la responsabilità rispetto agli avventurismi la coesione rispetto alle fratture la proiezione verso il mondo contro ogni nostalgia autarchica per questo chiediamo che venga riconosciuta ora dall'attuale governo una maggiore autonomia dei livelli amministrativi che uniscono la grande Milano e il mix di specializzazioni della Lombardia più autonomia non per inseguire impossibili mire scissioniste bensì per essere ancora più attrattivi cioè per trainare meglio l'Italia intera per essere crocevia tra Europa e Mediterraneo ci sta a cuore l'Italia ed è per questo che noi ci battiamo solo per più autonomia a Milano e la Lombardia vedere Roma nello stato in cui si dibattono i suoi servizi pubblici di trasporto di smaltimento e rifiuti è una stretta al cuore è la mia e la vostra capitale finestra dell'Italia sul mondo noi non concepiamo la nostra sfida di un Milano contro Roma essere primi a Milano per noi significa lavorare per una grande alleanza che metta a fattore comuni le migliori energie del pubblico e del privato perché tutte le grandi aree metropolitane siano in condizione di essere moltiplicatori dell'attrattività e della crescita nazionale ognuna secondo le sue vocazioni credo profondamente in questa nostra missione civile e i nostri successi a Milano ne raddoppiano l'importanza e il dovere come imprese parlando del ruolo dello Stato siamo chiamati una grande battaglia culturale su uno dei fondamenti stessi di ogni idea di comunità ed è per questo che dobbiamo impegnarci con forza perché non si radichi e si diffonda sempre più in Italia il ritorno in grande stile dello Stato paternalista non abbiamo bisogno di uno Stato che torni a essere padre e madre perché nella storia del Novecento questa formula ha prodotto immensi guai l'etica pubblica non è l'etica di uno Stato che voglia dall'alto imporre cittadini la sua visione di cosa la morale è giusta e cosa è sbagliata dobbiamo dire no a uno Stato che chiude gli esercizi commerciali la domenica sostenendo di difendere le famiglie viola la libertà di milioni di consumatori abbatte consumi e lavoro mina le possibilità che proprio le famiglie in cui due componenti lavorano si possano contemperare i tempi di lavoro con le scelte di consumo no a uno Stato che crede di poter rigestire il trasporto aereo se non potevamo permetterci se non potevamo permetterci un aereo di Stato come quello della Presidenza del Consiglio possiamo mai tornare a permetterci una flotta di Stato quando già con il prestito ponte abbiamo profuso sei volte l'ammontare di quello che il Venture Capitals dalle start-up in Italia non hanno e tutto questo per un vettore che perde 1,2 milioni al giorno perché non fare un referendum e chiedere agli italiani se vogliono ancora pagare di tasca propria per l'Italia no a uno Stato che ossia più nelle grandi opere infrastrutturali come TAP TAV e Terzo Valico il governo ha evitato un grave errore respingendo le tentazioni di chiudere l'ILVA scelga ora sulle grandi opere di trasporto ed energetiche di parlare la lingua del futuro e non quella del passato no a uno Stato che ci chiama prenditori e che dopo anni di promesse continua a non pagarci oltre 40 miliardi chi è il vero prenditore no a uno Stato che crede poter strappare 35 mila contratti di concessione la vicenda tragica del Ponte Morandi vede con troppa disinvoltura dimenticate le responsabilità della vigilanza tecnica di sicurezza del concedente pubblico ignorata la necessità che le responsabilità si accertino con indagini amministrative e penali calpestata la prescrizione vigente che la realizzazione della nuova opera sia fatta con gara di evidenza europea e non con affidamento diretto anche se su questo tema voglio aggiungere una cosa la vicenda del Ponte Morandi ha anche mostrato che quando li commette l'impresa i suoi errori li deve ammettere non difendiamo il sistema dell'impresa nascondendo i nostri errori così rafforziamo solo l'ostilità all'impresa che è già troppo vasta nella politica e nella società italiana e che mette in difficoltà chi come noi fa rappresentanza sul territorio è un errore che non dobbiamo commettere dobbiamo noi per primi dire che chi sbaglia deve pagare secondo le regole dello Stato di diritto proprio per evitare che altrimenti le conseguenze ricadano sull'intero sistema delle imprese e che diventi ancora più difficile il compito di chi come noi crede e scommette sulla rappresentanza delle imprese come leva per costruire fiducia un'ultima cosa a proposito di rappresentanza abbiamo visto che il governo convoca a Palazzo Chigi le controllate pubbliche e chiede loro di fare questo e quello inutile dire che per le grandi aziende quotate un governo dovrebbe sapere per primo che rispondono ai mercati e la loro autonomia è un bene primario ma il tema è un altro se un governo chiede alle controllate pubbliche di fare quello che nella manovra il governo non pensa di riuscire a realizzare è il governo che ha un problema con tutto il rispetto per la politica noi chiediamo a tutte le forze sociali italiane di concorrere a un metodo diverso scegliamo dove allocare le scarse risorse pubbliche a disposizione seguendo un metodo ben preciso e condiviso chiediamo di convogliare verso le scelte che vengono stimate come più rilevanti per accrescere il prodotto potenziale in calo purtroppo da anni e questo è il metodo per ottenere comprensione e sostegno in Europa non quello delle promesse elettorali scassa bilancio e di scarso impatto su crescita e lavoro come nel caso del decreto dignità che secondo i primi dati attualmente disponibili col suo regime di causali obbligatorie e aumento dei costi esercita esattamente gli effetti contrari alla conferma dei contratti effetti paventati da Confindustria e da tutte le associazioni di impresa senza eccezioni ma rimaste inascoltate questo è il metodo che ci porta a proporre una nuova visione del mondo del lavoro serve una visione radicalmente diversa del mondo del lavoro abbiamo per questo redatto un libro bianco sul lavoro realizzato in collaborazione con ADAPT che ha dato vita a uno degli osservatori più avanzati di come il lavoro sta cambiando nel nostro paese lo sforzo culturale da compiere su questo terreno è immenso prima di ogni cosa infatti dobbiamo come imprese darci un compito preciso descrivere nelle scuole e nelle università che cos'è il lavoro oggi la cosa più incredibile è continuare ad assistere in tv e sui media a descrizione del lavoro come se fossimo ancora nell'epoca fordista negli anni 70 non ha più senso l'antica separazione tra lavori manuali e lavori intellettuali le competenze richieste dalle nuove tecnologie e dai nuovi modelli organizzativi disegnano anche nella piccola impresa sempre nuovi intrecci tra capacità di gestione di macchinari e di processi come insegna il confronto in atto nella premessa comune sottoscritta con i sindacati per il contratto dei metalmeccanici prima ancora di mettere mano all'aggiornamento dei salari e dei diritti occorre ridefinire le mansioni se si pensa che il mansionario dei metalmeccanici era fermo al 1973 è come pensare di studiare la fauna immaginandoci siano ancora i dinosauri per questo noi vogliamo cambiare l'idea dal basso attraverso i contratti senza intromissioni da parte della politica insieme ai nostri collaboratori e ai loro sindacati perché attraverso i nuovi contratti aziendali si crea fiducia nelle nuove competenze si dimostra che le nuove tecnologie creano lavori e saperi nuovi si afferma ed estende il welfare aziendale si promuove la formazione continua che è un nuovo fondamentale diritto dovere dei lavoratori ed è leva per la crescita di tutte le imprese sono proprio queste le premesse attraverso le quali le imprese cresceranno nella produttività insieme a tutti i nostri collaboratori non solo con il salario di merito ma con gli investimenti in innovazione formazione e welfare è una visione antitetica quella che oggi vediamo difondersi intorno a noi e allora diciamolo i 10 miliardi del rete di cittadinanza destiniamone è un fronofrio italiano della ricerca per l'industria e la manifattura sullo stesso modello del 30% di finanziamento pubblico e del 70% a carico delle imprese come in Germania negli anni si tradurrebbe in un balzo della produttività dell'occupabilità dei giovani e del trasferimento tecnologico alle imprese immensamente più utile di qualunque sussidio pubblico slegato dall'idea di un reddito da lavoro e aggiungo no a uno Stato che torna a prepensionare aggravando il furto ai danni dei più giovani nessun dato empirico comprova l'ipotesi che un pensionato anzitempo lasci il suo lavoro a un disoccupato giovane al contrario i dati dei paesi oxe mostrano che accresce di più e che insieme più occupati giovani e anziani senza nessun automatico effetto sostitutivo e allora spendiamo i miliardi destinati ai prepensionamenti nell'ITS nelle università professionalizzanti che ci servono come il pane per risolvere il mismatch dei tecnici che oggi mancano e che le nostre imprese non riescono a trovare vogliamo politiche attive del lavoro non uno Stato maxifabbrica di persone subalterne ai suoi trasferimenti a proposito di giovani di ITS vorrei salutare i ragazzi dell'ITS Angelo Rizzoli e ITS Lombardia Meccatronica che sono qua presenti oggi con noi grazie di essere presenti ragazzi ho lasciato verso le conclusioni alcune considerazioni sulla finanza pubblica non conosciamo ancora il dettaglio finale della legge di bilancio ma abbiamo già pagato un prezzo elevato alle modalità con cui il governo è giunto ad aggiornare l'Evdef per poi modificarlo senza per questo convincere mercati ed Europa il punto di fondo non era e non è l'innalzamento del deficit 2019 al 2,4% del PIL se il maggior deficit fosse dovuto a un drastico innalzamento degli investimenti e degli stimoli della crescita assumerebbe tutt'altro significato agli occhi di Europa mercati agenzie di rating e soprattutto al mondo delle imprese se invece il maggior deficit si persegue per continuare sulla vecchia strada di miliardi aggiuntivi alla spesa corrente come a tutti gli effetti avviene destinandoli al reddito di cittadinanza ai prepensionamenti ecco che allora le stime di maggior crescita del PIL del governo non risultano credibili e il debito pubblico continuerà a salire non saranno 5 miliardi di soli investimenti pubblici in più a far salire il PIL dallo 0,9 all'1,5% programmatico il punto è tutto qua il governo del cambiamento non ha prodotto una manovra di vero cambiamento ma tutti comprendiamo che il dividendo che si ricerca è quello elettorale e non quello della crescita ma nel frattempo il maggior costo delle emissioni pubbliche si trasferisce subito il maggior costo delle emissioni obbligazionarie bancarie ed impresa il capitale delle banche si erode e nel conto patrimoniale le banche cariche dei titoli di debito pubblico devono ogni trimestre abbassarne il valore seguendo il mercato bruciando i risparmi di miliardi di persone è evidente a tutti che per questo canale torna a manifestarsi nel rischio di un'ulteriore restrizione del credito e di traslare su famiglie e imprese il maggior costo del debito pubblico una manovra da paese responsabile dovrebbe non solo crescere in maniera molto più significativa agli investimenti pubblici è sul fisco che avrebbe dovuto essere molto diversa ed è innanzitutto su questo punto che il governo ci ha molto deluso prendete la nostra proposta di revisione organica del fisco italiano e traducetela in atti concreti essa rappresenta il lavoro finale di una profonda riflessione che Assolombarda ha condiviso con esperti e professionisti del mondo tributario limitarsi ad innalzare 65.000 euro la franchigia per l'aliquota del 15% sui redditi da microimprese per partite IVA e professionisti accresce solo ulteriormente l'enorme disorganicità del nostro sistema tributario la nostra proposta nasce da un metodo diverso il metodo della responsabilità in coerenza a questo metodo di fisco responsabile proponiamo interventi finalizzati innanzitutto a favorire l'attrattività verso l'Italia di investimenti a esercitare un'energica spinta all'autofinanziamento per ripatrimonializzare le imprese e favorire gli investimenti di lungo periodo solo a titolo esemplificativo in materia di redditi di impresa differenziare l'attuale aliquota Ires abbattendola dal 24% al 17% sulla produzione di reddito e aggiungendo un eventuale 7% sulla distribuzione di dividendi premiando così l'investimento in risorse proprie e abbattendo la quota residua di IRAP ancora vigente e sull'IRPEF portare da 5 a 2 aliquote con una più o no taxarea ma facendo in più anni con coperture precise quanto alla lotta all'evasione siamo pronti alla sfida di far partire l'anno prossimo la fatturazione elettronica obbligatoria tra privati ma perché con la fatturazione elettronica obbligatoria lo Stato otterrà ogni singolo dato in tempo reale ai fini di abbattere illusione ed evasione IVA a questo punto tutte le altre misure precedentemente assunte allo stesso fine devono venire meno le comunicazioni trimestrali o semestrali obbligatorie lo split payment la reverse charge non possiamo continuare a usare le imprese in regola come un banco ma di Stato visto che i credit IVA maturati ci vengono riconosciuti dopo anni è venuto il momento di progettare un fisco che metta al centro le esigenze prioritarie delle imprese del lavoro e che ci restituisca un sistema tributario allineato in prospettiva alle medie dei paesi avanzati senza per questo accrescere il debito pubblico è ora è il momento giusto per farlo e mi avvio le conclusioni cari amici di Assolombarda caro Vincenzo caro Ministro Tria lo sappiamo questo nostro proposito è molto ambizioso dare una scossa all'intera società italiana costruire dal basso nuova fiducia promuovere i nostri giovani e non pensare solo chi un reddito l'ha già riequilibrare la finanza pubblica non perché ce lo chiede l'Europa ma perché sappiamo che è nostro primario interesse tornare a credere nella forza della libertà e non in quella del paternalismo dall'alto vincere la sfida dei mercati radicare uno spirito pubblico da paese vincente e non vinto se mi chiedete sia vellitario essere così ambiziosi la mia risposta e sono convinto anche la vostra è no perché nulla consuma gli uomini tanto rapidamente come il risentimento perché è più facile rinunciare a una buona ambizione che alle cattive abitudini ma è mille volte peggio e perché infine è sempre più facile incolpare altri divizi che sono i nostri per questo penso che non possiamo tirarci indietro paraprasando Churchill l'era dei rinvii delle mezze misure degli espedenti e ingannevolmente consolatori dei ritardi è da considerarsi chiusa ora inizia il periodo delle azioni che producono delle conseguenze noi siamo responsabili di ciò che saremo e l'Italia che sarà vive oggi nella nostra voglia di realizzarla perché nostra è la responsabilità del futuro grazie grazie grazie